Secondo turno infrasettimanale in Serie C, nel girone B programma equamente diviso, 5 gare oggi, 5 domani. Lupi in campo, domani sera ad Ascoli 20.45, match che in compagnia di Pescara Pontedera e Dentella Lucchese chiuderà il dodicesimo turno. Il pareggio maturato contro il Sestri Levante è stato accolto con favore dall'ambiente rosso-blu. Il diciottesimo punto maturato in 11 giornate ha permesso al Campobasso di muovere la classifica e restare al sesto posto. Certo, la classifica in questo momento non è così importante. Quello che conta è la maturazione del collettivo. La squadra è solida, crea occasioni da rete e non subisce. Quattro gare consecutive di imbattibilità per il portiere forte per un totale di 420 minuti sabato praticamente inoperoso. grazie all'ottima fase difensiva dei suoi compagni Alcino e Lillo del Duca. La partita più complicata per il Campobasso, almeno dal punto di vista mentale, l'Ascoli attraversa una crisi senza soluzioni di continuità. Cinque sconfitte consecutive, un punto nelle ultime sette gare, terz'ultimo posto in classifica. Uno scenario incredibile per una squadra costruita per navigare nelle zone altissime della classifica. Non ha portato effetti il cambio di guida tecnica di Carlo per Carrera, l'ex tecnico del Chievo. Oggi è a rischio esonero. La società marchigiana si è riservata a una valutazione ulteriore nelle prossime due gare ravvicinate. Lecito attendersi un avversario rabbioso e ferito. Il Campobasso dovrà gestire al meglio la tensione che si respirerà in campo al Del Duca e fare attenzione in particolare all'avvio della gara. Capitolo formazione. Braia medita qualche modifica nello scacchiere iniziale. Appurato dell'assenza di Benassai, squalificato e a rischio anche per domenica prossima per un problema muscolare, l'allenatore potrà contare su tutti gli effettivi. Anche forte, l'attaccante assente contro il Sestri Levante per influenza, farà parte del gruppo nella trasferta scolana in difesa il sostituto naturale di Benassai è mondonico, giocatore che almeno in questa prima parte di campionato non ha convinto pienamente. Un'occasione sicuramente importante per dimostrare il suo valore al cospetto di attaccanti molto quotati come quelli bianconeri. Per il resto Braia potrebbe alternare qualche pedina in mediana e in attacco. Difficile vedere dal primo minuto i giocatori subentrati sabato al Molinari delle sostituzioni che hanno peggiorato il rendimento della squadra. Già venduti oltre 400 biglietti dei 565 messi a disposizione della tifoseria Rosso-Blu. Si prevede dunque un'altra migrazione di massa alla volta delle marche in stile Pineto due settimane fa. Questa mattina è arrivata l'ufficialità della penalizzazione in classifica della Ternana. Gli Umbri devono scontare due punti a causa di alcuni inadempimenti amministrativi. Una penalizzazione pesante con la classifica corta e la squadra di Mister Abbate scivola al sesto posto da quota 22 a 20 a due punti in più proprio dal campo basso.